Regione Liguria, informazioni sul coronavirus. Con l'obiettivo di seguire e presidiare la diffusione del nuovo coronavirus, la Regione Liguria ha istituito una task force che agisce in tutta la Liguria. La task force coordina le azioni di sorveglianza e di controllo e i percorsi clinici. Se presenti sintomi come mal di gola, tosse, febbre o difficoltà respiratorie, sei stato in contatto con casi accertati, hai viaggiato o sei stato vicino a qualcuno che ha viaggiato nelle aree a rischio come la Cina o comuni sottoposti a restrizioni sanitarie, non devi andare al pronto soccorso o dal medico di famiglia, ma devi chiamare il numero unico d'emergenza 112. Gli operatori sanitari si prenderanno cura del tuo caso. Per la prevenzione, segui le seguenti regole di comportamento. Lavati spesso le mani. Non toccarti naso, bocca e occhi con le mani. Non prendere farmaci senza la prescrizione del medico. Usa fazzoletti monouso. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato. Evita il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute. Chiama il numero verde 1500 per ulteriori indicazioni. Resta aggiornato su www.regione.liguria.it Resta aggiornato su www.regione.liguria.it Resta aggiornato su www.regione.liguria.it